In questo video andremo a vedere come si generano dei barcode all'interno del nostro foglio di calcolo di Excel. Partiamo da una colonna Product ID dove è composta da numeri e anche da lettere. Per convertirlo in barcode dobbiamo inserire un asterisco alla fine di questo testo e alla fine di questo testo. Quindi andiamo a generare una formula uguale e andiamo a fare semplicemente virgolette, asterisco, virgolette, end, quindi vado a concatenare la mia stringa, quindi scriverò asterisco, end, questo contenuto, farò ancora end e ripeto ancora l'asterisco all'interno delle virgolette. Ecco che ho generato praticamente il contenuto utilizzabile e convertibile in formato barcode. Adesso per convertire questo risultato in barcode basterà andare a prendere il font library barcode 128 ed ecco che ho ottenuto il mio risultato. Se non avete questo font è molto semplice, possiamo andare a scaricarlo da Google. Andiamo sul nostro motore di ricerca, scriviamo library barcode 128 e qui troviamo proprio il sito ufficiale di Google. Scaricatelo qua così siete sicuri che scaricate qualcosa che funziona e non c'è nessun rischio. Andiamo su library barcode 128, qui facciamo get font in alto a destra e facciamo download. Una volta che l'abbiamo scaricato apriamo la cartella, eccola qui, ci scarica uno zip. Apriamo lo zip e qui troviamo il font. Per installarlo basterà fare doppio clic su di esso e premere sul bottoncino installa. In questo caso io l'ho già fatto quindi vado semplicemente a sostituirlo, compare questa cosina qui. Quando lui ha terminato il font sarà subito immediatamente disponibile in Excel. Quindi cercando library barcode 128 ecco che lo andrete a installare. Se questo tipo di barcode non è buono per voi, per come vi è formatato o qualsiasi altra cosa, potete scaricare altri tipi di barcode. Basta cercarli con Google. Ad esempio su Google c'è anche il barcode 39 che permette di gestire più carattere oppure cercate su qualche altro sito. Bene, direi che anche con questo video è tutto. Se è stato il vostro regadimento lasciate un bel pollizio in su, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. Se invece vorrete supportarmi in modo intensivo per portare altri contenuti come questo e far crescere continuamente il nostro canale, aiutatemi stipulando un abbonamento col tasto abbonati che trovate sotto al video. Vi ringrazio molto per avermi seguito fino a qui, ci vediamo al prossimo video. Presto, ciao!